In quali comuni sventoleranno le bandiere blu? Una domanda ricorrente in vista della stagione estiva, ma per il momento le curiosità dovranno rimanere tali. La FEE, che dal 1987 assegna i prestigiosi vessilli in 41 paesi, fino all'ultimo, come sempre, manterrà il massimo riservo sui nomi delle località turistiche balneari che saranno insignete del riconoscimento per aver adottato e rispettato criteri di gestione sostenibile del territorio. Il 13 maggio potrebbe essere, con molta probabilità, il giorno della consegna, in capitale, delle bandiere blu. Ma la data non è stata ancora ufficializzata. Quel che è certo è che anche per l'estate 2014 la costiera cilentana potrebbe fare a man bassa di riconoscimenti, come già accaduto lo scorso anno. Un'ipotesi basata sugli eccellenti risultati raggiunti dal territorio a sud di Salerno per quanto riguarda la balneabilità delle acque. Il mare del Salernitano goda infatti di un ottimo stato di salute, lo hanno certificato le analisi effettuate dall'ARPA, che i cui esiti sono stati divulgati online dal portale delle acque del Ministero della Salute. Il cilento si contraddistingue su tutto lo stivale. Lungo i suoi oltre 100 chilometri di costa, compresi tra Capaccio e Sapri, i parametri non scendono mai al di sotto della sufficienza. L'eccellenza è interrotta soltanto in piccolissimi punti, in corrispondenza delle foci dei fiumi o delle aree portuali. E intanto, mentre si spera in una nuova levata di vento blu, una località cilentana che ospita anche un'area marina protetta e la spiaggia più bella d'Italia, si prepara ad invadere gli spazi pubblicitari dei canali Sky. Camerota, infatti, dalle reti di Mardoc, con le sue bellezze, cercherà di attirare nuovi visitatori. In bella mostra racchiusi in due spot pubblicitari, gli itinerari compresi tra Punta degli Infreschi e Cala Bianca, dal centro storico di Lentiscosa, per arrivare ai panorami mozzafiato della chiesetta di Sant'Antonio e del santuario dell'Annunziata a Licusati.